buongiorno come ti chiami ciao luigi io sono andrea 5 che facciamo oggi dai perché con l'aereo vai per te la è tutta la tua ma sai che all'inizio della fine bene ok mi raccomando un po divertimento a te entrambi a dopo no Allora che ci siamo, eh? Andiamo che ci siamo, salutiamo, salutiamo, salutiamo. Grazie! Grazie a tutti. 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 Perché?